Hello guys, bentornati su Hearthstone Siamo tornati nella modalità rissa perché dobbiamo riscattare la sconfitta brutta che abbiamo rimediato nell'ultima volta Una sconfitta pesante che non mi va giù per niente Eccoci qua, dunque, contro lo stregone Un mago contro uno stregone Vediamo un po' che succede, che succede Allora, una mano abbastanza decente, quindi tengo tutto quanto, copro i primi round Sono tutti i drop, 2, 4, 2, 1 Bah, secondo me può andar bene Mi sta bene, me lo faccio andar bene Allora, provo ad affiancare il mago al paladino, è andato una merda Adesso proviamo ad affiancare il mago Ah, sarei indeciso se magari mi desse un sacerdote oppure un, perché no, pure un cacciatore Adesso sono classi che non uso quasi mai Adesso intanto si affianca un paladino Vediamo un po', intanto lo salutiamo Ok, lo stregone, lo sciamano Prendo lo sciamano, prendo lo sciamano Perfetto Allora, come prima, come prima, come prima E niente, butto giù un Marlock E passo il turno Vediamo un po' tu che fa Intanto vi diverto col rozzetto Ah, signora del dolore Vediamo un po' Buono Buono, buono Allora, infligge tre danni Non neanche lo butto giù, onestamente Però, 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 però Però Ma sì Io so che te come lo devo dal cazzo Che non si sa mai Ho visto troppe combo strane Sono strane in queste partite Gente che con Una sola carta schierata giù La porta a 12-12 8-8 Ugo addirittura prima Mi hanno messo a 13-8 Ed era una carta del merda Schierata all'inizio Quindi è meglio liberarla il più possibile Perché E poi sta carta di merda qua Questa carta di merda qui Non mi è mai uscita quando serviva Mai Quindi Vediamo un po' Io lo stregone dovrei iniziare a giocarlo un pochettino Perché Mi ho sempre affascinato Ma non Non ci ho mai giocato Addirittura un'altra Mi piace proprio il culo Mi piace proprio il culo Ok Allora Per non sapere leggere e scrivere E passiamo Un pochettino Vediamo Quello che fa lui Ma dopo Non è possibile Che pesco sempre sta gente Che Che fanno mossa Un'ora E' già Su Ancora Magari pesca Dai Niente Non ce la va Oh Ok Ok Sarà indeciso Perché sputafiamme Comoda Però E posso fa Perché no Così Ah però può attaccare Se ho ancora attaccato Eh Non l'avevo detta Non l'avevo detta Qui ci sono un sacco di carte Che non conosco Cioè Vede che sono un giocatore De merda Madonna Che carta Ok Tiè Volto giù questa Tiè Portala a casa Va Elementale della terra Che bastardo Di merda Un figlio di puttana Figlio di puttana Eh Che tu possa morir male Non posso Non cazzo Se non Dalla minchia Qui Giustamente Giustamente Non mi sembra Il momento migliore Vabbè Passiamo Passiamo Un attimo Madonna L'ansia Oh Oh Se sta mettendo male Se sta mettendo male Una cifra male Se sta mettendo Molto Molto Male Vediamo Tutto In realtà Sono deciso Perché Da tre Non c'ho Niente Quindi Non posso Però magari Mi devo dar Il cazzo Questo Non è Sbagliato E Veniamo Un po' Devo riuscire A resistere Non troppo Perché Potrebbe uscire Qualche carta Che Rivalta La situazione Io non credo Non ho visto Nessun colpo De scena Nessun mazzo Non riesco A mettere A fuoco Nessuna strategia Buona Non so Magari Sbaglierò Io qualcosa Sicuro Ma Ma Grazie. Bastato. Trasforma il servitore in pegola. No, volevo aspettare un altro po'. L'ispirazione ottiene più due e più due. Fornisce rampa di morte e ancora questo servitore al servitore. Ok. Intanto ci mettiamo qui. Così, eh. Vediamo un attimino quello che fa lui. Bastato. Ma quello che lo faremo diventa una bella pecorella al prossimo. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Pompati, pompati. Bastardo. Beh, pesante prova. Ci vorrebbe, ci vorrebbe. Guarda, se ne vai a fare in culo per rotti coglioni poi. Ok. E poi? E poi, poi, poi. No, 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 no. Perché non mi prende il bonus così. E quindi faccio questo. E dopo ti che faccio anche... ... 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 ok, ora dobbiamo passare il contro attacco finalmente, dobbiamo fare un po' di danni pure noi o se inventa qualcosa di clamoroso di questo turno, oppure è il goodbye forse questo lo portiamo a casa forse vediamo un po', vediamo un po' adesso come vediamo che fa, mi ha ricadato un draghetti? ma guarda un po', non ci credo fantastico, se mi batte così è fantastico perfetto ok, decisione giusta e stavica e finalmente si vince una cazzo di partita quindi, lasciate un like se il video vi è piaciuto un dislike se non vi è piaciuto commentate e iscrivetevi al canale ok, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video qui su Hearthstone hello guys ciao ciao ciao